... ... Questa è la fase che ho pensato, oppure è rifugiata, purtroppo con questa prima fase La fase è un po' complessa, non posso girare i camion, ma non posso girare i camion C'è un po' complesso, non posso girare i camion C'è un po' complesso Ci sarà qualcosa? C'è un po' complesso Quindi ad oggi ciò che vogliamo prendere il prossimo E se potrete prendere il prossimo I'improvviso Non saprò, non scegliere E' un po' anche lì C'è un po' piùerek e la mia amica mi dice che gli altri non fanno, loro fanno un shell casco e la mia amica mi dice che gli altri non fanno un po' e e e e e e e e No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.